ciao runners e ciao amanti della corsa io sono lorenzo maggiani e questo è il podcast da 0 a 42 qualche settimana fa vi ho parlato della mia esperienza con la pistola massaggiante è stato il mio primissimo approccio e devo dire di aver avuto delle discrete sensazioni usandola vi lascio anche il link all'episodio in questione nelle note lì mi ero concentrato esclusivamente su di me su come avevo usato la massage gun e di che risultati avessi poi ottenuto e soprattutto percepito nel mentre che cercavo informazioni su come usare al meglio la pistola dato che qualche cazzata quella l'ho fatta mi sono imbattuto in più di un articolo di blog che al suo interno citava delle ricerche scientifiche il che mi ha dato l'imbeccata per cercarne pure delle altre a riguardo ed è venuto fuori un sacchissimo di roba ci sono stati nel tempo davvero tanti studi sul tema un po sulla pistola massaggiante ed in generale sui massaggi sulle terapie di questo tipo che quindi oggi sfrutto per portarveli in puntata e quindi preparatevi perché ne arriva un episodio noioso doverosa premessina non ho alcun interesse personale nel promuovere l'utilizzo della pistola massaggiante come dicevo anche nell'altra puntata manco ne possiedo una dato che nel frattempo l'ho pure restituita a manuel che me l'aveva prestata e nemmeno quella lì ricordo di che marca fosse semplicemente andrò a riportarvi alcune evidenze scientifiche in merito dato che l'altra volta mi ero basato solo su di me e sulle mie personalissime sensazioni ci tenevo comunque in questa occasione ad essere maggiormente scientifico per cui eccoci qua come accennavo cercando su google sono saltate fuori veramente tante ricerche circa le pistole massaggianti teragun e compagnia però è anche giusto dire come non trattandosi effettivamente di uno strumento medico bisogna capire anche quali sono poi gli studi più attendibili quindi prendete anche un po con le pinze ciò che vi dirò di tutto il calderone ho provato a farne anche una sorta di selezione filtrando gli studi che mi sembravano più attendibili e anche in parte attinenti alla corsa nei prossimi minuti andrò a sintetizzarli anche a semplificarli un po provando ad evidenziare cosa hanno dimostrato insomma ho cercato al solito di metterci del mio usando pure il buon senso per quanto non sia assolutamente né un medico né un fisioterapista eccetera eccetera anzi mi farebbe piacere che se ci fosse qualche esperto vero all'ascolto lo invito proprio a scrivermi per eventualmente integrare o anche correggere alcune cose che dirò ovviamente vi lascio nelle note dell'episodio tutti i link alle varie ricerche ma finalmente cominciamo la prima analisi ha messo a confronto diverse metodologie per il recupero muscolare dopo l'esercizio in particolare hanno provato diverse tecniche che in qualche modo hanno tutte mostrato alcuni effetti positivi nel processo di recupero con effetti comprovati come la riduzione dell'indolenzimento muscolare a insorgente ritardata cioè idoms il mantenimento delle prestazioni sportive la riduzione del dolore queste tecniche erano terapia manuale vibrazione meccanica il foam roller e la terapia percussione che poi è quella della pistola massaggiante hanno preso un po di persone che si sono offerte volontari li hanno sottoposti a sforzi e differenti terapie dividendoli in gruppi e hanno misurato cosa è saltato fuori che la terapia percussiva quindi la pistola massaggiante si è questo tipo di trattamento ha permesso di ottenere valori di recupero muscolare simili a quelli della terapia manuale ed è stata più efficiente del nullo e della vibrazione meccanica insomma qua si evince come la terapia percussiva possa avere un potenziale per migliorare il recupero muscolare tuttavia va detto che gli stessi autori dello studio ammettono che sarebbero necessarie ulteriori analisi per determinare quale di queste tecniche sia la più efficace sia a breve che a lungo termine la seconda ricerca si è focalizzata sui doms e sulla terapia sotto forma di vibrazioni per contrastarli i doms lo accennavo anche prima sono quei dolori muscolari che arrivano 24 48 ore dopo un allenamento o una gara molto intensi qua lo studio ha preso in esame diverse tipologie di persone degli studenti di college un runner amatoriale un uomo adulto non allenato un adolescente e così via anche se onestamente il campione numerico non mi è sembrato così significativo ad ognuno di loro sono state sottoposte diverse modalità di recupero tutte comunque incentrate sulle vibrazioni i risultati hanno detto che questo genere di attività ha aiutato nel prevenire i doms e non solo nel recupero ha innalzato la temperatura cutanea e ha fatto crescere il flusso sanguigno con una diminuzione dell'indolenzimento e rigidità muscolare insomma anche da questa ricerca pare che la terapia con le vibrazioni possa funzionare sia a livello di prevenzione che di recupero pure loro sono stati onesti e ammettono di aver condotto ancora poche ricerche in merito sperando però che questo loro paper possa gettare le basi per ulteriori studi in modo simile è stata fatta un'ulteriore ricerca la terza che prendiamo in esame quest'oggi sempre volta a capire l'impatto della massage gun sui doms 50 volontari sani non atletici sono stati assegnati in modo casuale a due gruppi da 25 persone l'uno su un gruppo hanno trasmesso le vibrazioni sui quadricipiti e sui polpacci mentre per gli altri non è stato fatto nulla poi entrambi i gruppi hanno camminato in discesa su un tapirulano inclinato di 10 gradi alla velocità di 4 chilometri all'ora misurando poi i vari parametri hanno successivamente atteso ulteriori 24 ore e hanno effettuato una nuova rilevazione sulle stesse persone il risultato hanno poi mostrato quindi una diminuzione della forza muscolare e un aumento significativo della media dei livelli di doms nel gruppo che non aveva ricevuto il trattamento di massaggio con la pistola quindi di conseguenza la pistola anche qua ha aiutato per i doms e per mantenere un po il tono muscolare veniamo alla quarta evidenza scientifica l'idea in questo caso era di vedere se la pistola massaggiante potesse influire sull'ampiezza di movimento e sulle prestazioni dei muscoli sono stati presi in esame 16 atleti amatoriali con età media attorno ai 27 anni per lo studio si sono presentati in laboratorio per due sessioni con una pausa di due giorni tra l'una e l'altra alla stessa ora del giorno il trattamento di massaggio percussivo e la prova di controllo cioè quella dove non hanno usato la massaggio gun sono stati eseguiti in ordine casuale prima e dopo entrambi i trattamenti sono stati determinati l'escursione di movimento e la massima contrazione volontaria dei muscoli flessori plantari che possiamo un po semplificare definendola come la forza più elevata che il sistema neuromuscolare in grado di esprimere cioè insomma hanno misurato quanta forza avevano i muscoli sono stati poi raccolti i dati e ciò che ne è risultato per chi ha utilizzato la pistola massaggiante è un aumento medio dell'ampiezza di movimento ma nessun cambiamento né in positivo né in negativo nella produzione della massima contrazione volontaria quindi della forza come dicevamo prima pertanto il suggerimento finale di chi ha effettuato la ricerca è di usare la massaggio gun durante il riscaldamento per ottimizzare il livello di flessibilità senza comunque andare a perdere nulla di performance muscolare dato che questo appare resti invariata sulla stessa falsa rig è stato condotto un altro studio ovvero volevano capire come la pistola massaggiante potesse influenzare la perdita di velocità durante l'esecuzione di un esercizio di bench press hanno preso in esame 24 uomini dell'università e li hanno divisi in due gruppi in modo simile se vogliamo a quello di prima di studio infatti vado un po più veloce qua 12 ricevevano il trattamento con la pistola tra una serie di pressa e gli altri no i risultati hanno detto che il gruppo che ha ricevuto il trattamento è stato in grado di eseguire un numero maggiore di ripetizioni totali dimostrando anche che la terapia percussiva si è rivelato un metodo efficace per ritardare la perdita di velocità di movimento nel svolgere l'esercizio infine e veniamo all'ultima un'altra ricerca sui doms stavolta basata su 45 donne che sono state divise in tre gruppi da 15 su un gruppo hanno usato la pistola su altre 15 una seduta di massoterapia sulle restanti non è stato fatto niente dopodiché hanno eseguito degli esercizi eccentrici e su tutte quante sono stati anche rilevati numerosi parametri alcuni che abbiamo pure visto prima tipo range di movimento e forza ma anche altre robe lattato percezione del dolore dell'indolenzimento ed altro quasi tutti i parametri sono stati misurati prima e subito dopo l'intervento di massaggio e poi subito dopo l'esercizio oltre che 24 48 e 72 ore dopo nello studio sono venuti fuori un sacco di numeri analisi rispetto ai vari gruppi e differenti rilevamenti vi sintetizzo che la terapia vibrazionale con la pistola ed il massaggio massoterapico si sono rivelati ugualmente efficaci nella prevenzione dei doms il massaggio è stato anche meglio nel ripristino della forza concentrica mentre la terapia vibrazionale quindi la pistola ha portato ad una riduzione veloce del dolore ed è stata efficace nella diminuire il livello di lattato nelle 48 ore successive all'esercizio insomma arriviamo verso la fine di questa puntata noiosissima lungi da me con odio sperticarmi e volervi proprio convincere nel comprare la pistola non voglio fare l'elogio della pistola massaggiante anche perché comunque tutti questi studi va detto che sono stati condotti su campioni con numeri non elevatissimi però personalmente reputo che l'idea che a qualcosa possa servire in linea di massima c'è e anch'io quando l'ho provata almeno un minimo ho percepito effettivamente dei benefici fatemi sapere ovviamente come la pensate voi sulla pistola come vi trovate eccetera eccetera per farlo potete scrivermi su instagram su telegram via mail come al solito sta tutto quanto nelle note dell'episodio inoltre se volevi unirvi alla community dei pazzi che mi sostiene che ringrazio sempre 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 di cuore e dove su telegram ormai si è creata una piccola famiglia sempre nelle note c'è il link per accedere al canale patreon vi ricordo che potete anche darmi una mano in tanti altri modi come condividere la puntata lasciare recensioni fare una donazione anche una tantum sui paypal le strade sono tante sempre in descrizione c'è tutto quanto un sacco di link cliccate e fate cose per oggi è veramente tutto cari runners pare che anche a livello scientifico la pistola massaggiante possa davvero darci almeno una piccola mano ci sentiamo alla prossima puntata